Un appuntamento fisso per noi sposi e sicuramente qui nello stand del nostro Luciano Spoto soprattutto con Photo Creation e con lui che insomma tutti gli anni, intanto parliamo come sempre di lui spesso di calcio, spesso di politica, però qui parliamo di fotografia Questa sera parliamo di fotografia, cominciamo ringraziando tutti quelli che mi hanno scelto e questa sera mi voglio superare anche chi non mi ha scelto perché riflettendo ho capito che anche chi non mi ha scelto ha parlato di me quindi parlando di me comunque ho fatto pubblicità e cominciamo ringraziando le persone Abbiamo cominciato in modo contorto, poi va bene lo stesso Allora, parliamo di fotografia, anche quest'anno novità fiera c'è qualcosa di particolare che tu ci vuoi proporre? Allora quest'anno abbiamo aggiunto ai soliti pacchetti che ci sono delle novità sul libro digitale e soprattutto moltissime novità sul video questo wedding cinema del quale tanto si parla che poi non è altro che il video realizzato con qualche attrezzatura cinematografica in più Steadicam, monopiede, GoPro Dico, alla fine non è niente di speciale, però è tanto pubblicizzato anche noi ci siamo attrezzati come fanno tutti Non voglio dire cifre, prezzi o preventivi così voglio che le persone vengano in studio che è in via Anatoli 133 telefonando al 347 6396 113 per prenotare un appuntamento sembra una telepromozione, sono bravissimo però è importantissimo e lì svelerò un pochino dei miei segreti nascosti che qui sto dicendo solo alle coppie veramente interessate sui prezzi e su quello che stiamo dando in più come promozione poi quello che posso dire è che la solita qualità sulle stampe, sulla rilegatura, sulla nostra professionalità su come guidiamo le coppie dall'inizio alla fine quella c'è, ci sarà e ci sarà sempre e in più quest'anno stiamo facendo un'altra piccola chicca che è quella di riprodurre gli album che portano le coppie cioè viene una coppia e mi dice Luciano ma a me piacerebbe l'album fatto in questo modo magari di un collega fotografo, della concorrenza noi siamo capaci di riprodurlo, stessa qualità se non meglio addirittura Se fate i copioni praticamente Tutto, tutto, li accontentiamo in tutto li culliamo, li viziamo, facciamo sì che escano contenti dallo studio Vengono da te e sono sicuramente contenti Tu li accontenti a 360 gradi? 359, 9 su 10, non voglio essere così esagerato però 9 su 10 sì perché comunque riusciamo a cercare di enterrare nella loro mente alcune volte, molto semplici, altre volte abbastanza contorta ma riusciamo comunque a capire quello che vogliono e in linea di massima sono contenti Ricordiamo dove ti trovi, come studio? Sì, ripeto, la prenotazione al telefono 347-6396-113 lo studio è in via Anatoli 133 a Messina La promozione fiera con lo sconto bomba che non sto a dire qui è valida per la prima settimana dopo la fiera però per tutto il mese di gennaio comunque ci sarà il prezzo che trovano nei volantini Grazie a tutti Grazie a tutti